Ma dunque, sentire le omelie dal suo patrizio attico di Nuova York di Saviano fa un effetto spaesante da un certo punto di vista, perché rivela la distanza abissale che si è prodotta fra gli intellettuali della sinistra e le masse popolari dei lavoratori del tutto non rappresentate. Il successo di Saviano, e qui si parla delle idee e non della persona, il successo di Saviano come intellettuale, io lo spiegherei in ragione del fatto che egli è sempre perfettamente sincronizzato con i flussi del pensiero unico globalista, è sempre in prima linea a denunciare il dittatore Fidel Castro, è sempre in prima linea a denunciare tutti i populismi, su quello gli diamo il nostro pieno sostegno e merita di essere scortato indubbiamente, ma è sempre allineato con il pensiero unico, suggerisce che sono tutti populisti e razzisti quelli che non accettano il capitale finanziario come unica ragione d'essere, propone sindaci stranieri per il sud Italia, delegittimando integralmente l'interesse nazionale, è sempre allineato con il pensiero unico che ovviamente rivela in ciò di aver prescelto la sua narrazione come stratagemma di conquista delle coscienze contemporanee. E quindi non è una critica alla persona che può anche essere molto simpatica, si parla de re ipsa, della cosa stessa, dell'idea in questione. Sì, certo, è latino. Sì, sì, l'ha fatto il classico anche io, lo dicevo. Ecco, anche il greco, anche il greco si può dire allora. Prima che tolgano il liceo classico, spendiamo una lancia a favore del liceo classico anche. Pochino però i miei genitori, poco, poco eh. Leggiamo Tacito più di Saviano allora. Ciao.